Sicuramente ti sarà capitato tante volte di trovarti all'interno del mercato e di essere buttato fuori inutilmente per poi vederlo invertire oppure di entrare all'interno del mercato a caso senza sapere poi che effettivamente il prezzo doveva andare a rialzo e continuare a spingere Bene, questa cosa qui ora la andremo a risolvere grazie a questo video e ti andrò a spiegare per filo e per segno quali sono le due schematiche che ricorrono più all'interno del mercato così che tu possa evitare di essere buttato fuori all'interno del mercato e di poter approfittare di più di provare a cercare una continuazione piuttosto di andare a cercare quella che è un'inversione all'interno del mercato quindi andremo a vedere nel dettaglio come e quando capire se il mercato può ancora spingere o potenzialmente aspettarsi un'inversione Ci tengo anche a ricordare che ho scritto il mio personale ebook dove vado a spiegare quello che è il mio stile operativo che porta all'interno del mercato Questo lo stanno utilizzando veramente tantissimi ragazzi che stanno finalmente ottenendo risultati e avendo chiarezza all'interno del mercato per concretizzare quello che è uno stile operativo che a molti può essere difficile Dentro l'ebook troverai tutti quelli che sono i step per la mia strategia spiegati passo dopo passo e tutti questi video che troverai all'interno del canale avranno un significato molto diverso E anche oggi ci divertiamo, andiamo ad aggiungere altro spicy, anzi questo è molto dolce direi L'altra volta abbiamo aggiunto un po' di piccante, oggi ci mettiamo un po' di dolce per andare a comprendere, ad attenuare quelli che possono essere anche i nostri stop loss che possiamo andare a ottenere all'interno del mercato Per me è molto importante portare questo concetto perché sicuramente ti è capitato tantissime volte di trovarti in situazioni dove il mercato ti va a bucare e non so mettiamo caso che ci troviamo in una situazione come questa dove spinge a rialzo tu ovviamente hai questa zona dove potenzialmente ti può aspettare un rimbalzo per poi andare su e quello che succede alla fine è che il mercato ti va semplicemente a spaccare quella che è la tua zona di interesse Ora, il mio obiettivo in questa breve lezione che avremo e che potrai guardarti e riguardarti e che andrà a inserire un ottimo tassello all'interno del tuo trading plan all'interno di quello che potrebbe essere la tua visione del mercato Ovviamente questi come sempre ci tengo a ribadire più e più volte ragazzi non sono consigli finanziari ma sono semplicemente delle formazioni che vado a fare gratuitamente qui su YouTube per portare del valore gratuito e ovviamente io non mi assumo nessuna responsabilità su quelli che possono essere i concetti che possono essere applicati quindi ovviamente siete voi a decidere quando cliccare di entrare al mercato e quando anche uscire ecco quindi io adesso sono e mi pongo in veste di una persona che di un formatore che semplicemente vuole condividere una sua esperienza personale è quello che ha visto più volte funzionare all'interno del mercato quindi una cosa molto semplice che si ripercuote tante 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 volte è la seguente questo potrà aiutarti soprattutto quando ti ritrovi in situazioni dove vedi che il mercato continua a spingere a rialzo e ti aspetti molto spesso un'inversione noi non dobbiamo andare contro certe direzionalità e in uno specifico queste che adesso ti andrò ad elencare e a mostrare perché ricordiamoci è una cosa molto molto importante è che il mercato una volta che vediamo che inizia a fare una zona di schematica e questo molto importante andiamo a definire che per me è molto 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 importante almeno da 5 minuti a 15 minuti minimo quindi questa è una schematica che minimo si va a sviluppare in un time frame dai 5 ai 15 minuti per poterci permettere un trade che possa essere swingato questo è importante se io voglio fare uno swing quindi un trade che magari mi può durare anche 4-5 giorni una settimana addirittura cosa che a me personalmente non capita molto spesso perché sono più propenso a prendere quelle che sono operazioni intraday o massimo 2-3 giorni di fila quando noi vediamo queste schematiche che si vanno a sviluppare tra 5-15 minuti tra l'altro i cambi dominance e che per chi sa come funzionano i cambi dominance tra l'altro la dominance l'ho spiegata all'interno dell'ebook io comunque ti lascio in descrizione il link per poter accedere all'ebook a dargli un occhio ma anche andare a scaricarti gratuitamente l'estratto per vedere un po' cosa si trova al suo interno e se poi effettivamente attirare la tua attenzione per aumentare il tuo bagaglio di informazioni alla fine quello che si consiglia sempre è di andare a investire sulla propria formazione piuttosto che andare a buttare soldi inutilmente all'interno del mercato senza poi andare a capire perché li hai buttati meglio investire su se stessi e poi almeno mal che vada hai capito una cosa in più è un concetto nuovo che puoi andare ad applicare e se reputi validi i concetti che vado a portare qui dentro gratuitamente all'interno della piattaforma di youtube pensa a quello che vado a portare poi anche nell'ebook e in tutto quello che vado a fare anche in community privata e altre chiamate esclusive che vado a tenere ora tornando al discorso della dominance noi se abbiamo un cambio di dominance 5 minuti a 15 minuti la cosa più propensa che il prezzo è tendente a fare non è andare subito dopo un movimento rialzista a fare un'inversione per dopo andare giù e spaccare tutto ma quello che è più propenso il mercato a fare la maggior parte delle volte è andare a fare molto spesso una situazione di riaccumulo quindi una volta che abbiamo sparato bene a rialzi abbiamo forte direzionalità il mercato ci ha indicato chiaramente che vuole andare a rialzo è molto più propenso per noi andare a ricercare una situazione dove si riallinea la dominance del micro time frame quindi in questo caso se questo è una situazione a 15 minuti che ha portato il prezzo a rialzo fino a questo punto noi se vediamo che su 5 minuti c'è un cambio dominance all'interno del mercato per andare a rialzo non dobbiamo cercare di andare a vendere ma dobbiamo essere più propensi ad andare a comprare per continuare la direzionalità questo succede molto spesso anche quando ci troviamo in situazioni come queste dove prezzo che va a fare schematica di inversione vediamo questo testa andiamo giù la maggior parte delle persone vedendo questo movimento si aspetta che ritorni per andare a rialzo magari dicono guarda io compro su questo livello qui questo è successo tantissime volte anche per me è stato difficile uscire da questo trauma vado a comprare su queste zone qua per andare su livelli molto più elevati per effettuare una vendita per chi mi aspetta che il prezzo ritorni qui e poi cosa succede? che il mercato invece da qua reagisce magari a metà dell'impulso va a creare la sua schematica e poi se ne va continuamente a ribasso buttami un 888 nei commenti se ti è successo di andare contro queste cose qui ma so che sicuramente ti è successo non mentirmi lo so perché questi errori qua li abbiamo commessi tutti prima o poi nella nostra carriera da trader nel nostro percorso quindi quello che è più propenso andare a fare e che dobbiamo ricordarci soprattutto è che una volta che il mercato va a fare una schematica in questo caso di accumulo per portare il prezzo a rialzo ricordiamoci attentamente che è più propenso andare a fare la stessa identica cosa per andare a riaccumulare quindi dopo 1 aspettiamoci un 2 che non è detto che vada a fare la stessa identica cosa lo stesso tipo di schematica ma andando ad applicare i concetti che comunque sono riuscito a trasmettervi anche così in maniera gratuita possiamo aspettarci di provare un ritest quindi se andiamo a mettere ad esempio le manipolazioni andiamo a cercare il test della candela istituzionale vediamo che ad esempio qui dentro adesso ti do questa cosa questa cosa qua spiegata qui su youtube dovrebbe essere abbastanza illegale quindi qua dentro cosa potremmo vedere che se abbiamo il prezzo che va a crearci magari un'ultima struttura quindi questo qua è il time frame più basso andiamo giù andando giù vediamo che viene creato questo è il nostro minimo segnato un minimo più basso rispetto a quello precedente questi che sono gli autori della creazione del minimo più basso che poi vengono superati a loro volta e vediamo che accade una manipolazione come ho spiegato anche all'interno del canale infatti io ti invito sempre a guardarti tutti i video e riguardarli più e più volte infatti quello che ho visto che ho ricevuto tantissimi feedback da parte dei ragazzi che comunque ne ricevo a centinaia che continuo a postare ogni singolo giorno che tramite la ripetizione io posso andare a comprendere ancora meglio i concetti e se ti trovi in una situazione in una fase del tuo percorso dove sei ancora in forte dubbio dove ti trovi in una situazione dove non capisci effettivamente come vanno i tuoi concetti allora qua potrebbe subentrare e ad essere efficace l'implementazione della ripetizione dei video che trovi all'interno del canale tanto sono gratuiti sono lì e tu li puoi consultare quando ti pare piace quindi andando a vedere quello che c'è siccome qui vediamo che magari il mercato va a effettuare la manipolazione della liquidità che abbiamo trovato all'interno del mercato quello che noi dobbiamo andare a cercare è la nostra candellina istituzionale e di questa candellina istituzionale qua che a seconda di com'è quindi piena, mista o con tanta ombra una volta che abbiamo visto il riallineamento del micro con quello che è la struttura del macro potremmo aspettarci cosa? il ritest sulla zona di candela istituzionale per andare a rialzo a rialzo fino a dove? quello che io solitamente vado a prediligere la maggior parte delle volte è il massimo formato da dove il mercato è iniziato a rallentare e a comprimersi perché poi la maggior parte delle volte quando il mercato va a fare una zona di accumulo e poi va a fare un altro riaccumulo e si ferma poco prima è perché molto probabilmente a time frame più alto ci troviamo in una situazione dove il prezzo deve andare a concludere e a finalizzare una schematica contraria per andarsene short come in questo caso sul long term quindi questo può succedere per andare a rialzo ovviamente queste sono schematiche che io ve le vado a semplificare tantissimo qui di mezzo c'è il discorso di Wyckoff Wyckoff veramente ha fatto un lavoro magistrale se pensiamo che a 200 anni fa già lui riusciva a tradare con queste schematiche semplicemente mettendo insieme vari fogli di carta con informazioni che vengono date che venivano date che riusciva a raccogliere e quindi andando a identificare una prima schematica con una seconda schematica di riaccumulo per poi testare la nostra zona di interesse da qui poi cosa succede? da qui può subentrare questo quindi possiamo andare a vedere che il mercato può andare a concludere e completare il ciclo in questo modo quindi vediamo questo che si va a unire e così possiamo andare a sfruttarlo e da qui possiamo andarcene a ribasso quindi qui io ti ho spiegato come poter andare a prendere una possibile entrata ovviamente allineando tutti i vari aspetti tutti i vari fattori che ce ne sono veramente tantissimi e facendo questo pescando dentro la nostra zona di interesse possiamo riallinearci e invece di continuare a sperare che sulle zone precedenti possa il mercato darci un'opportunità di compera ci possiamo rendere conto invece che abbiamo testato una zona di vendita a un time frame più alto e quindi di conseguenza smetteremo di sperare per i long ma saremo più propensi a cambiare il nostro bias uno degli errori più comuni che vengono fatti e presi in considerazione tenuti da parte delle persone è proprio quello di sposare un solo bias direzionale per me è solo long per me andrà soltanto su e quindi tu andrai a cercare soltanto opportunità che è soltanto informazioni che possono andare ad avvalorare sempre di più la tua tesi ma ricordiamoci che nulla è assoluta noi andiamo a interpretare i dati in base a quella che è la nostra percezione e quindi andando ad avere informazioni diverse possiamo andare a riconoscere a ottenere risultati diversi ma una cosa fondamentale che noi dobbiamo ricordarci e che ti invito a scrivere nei tuoi appunti io mi auguro veramente te che stai ascoltando questo video che stia applicando e stia prendendo appunti valorizzando queste informazioni che io ti sto portando perché vorrei vedere quanti ce ne sono là fuori che all'interno della piattaforma ti portano concetti e contenuti di questo tipo ce ne sono veramente pochissimi veramente pochissimi e se hai avuto la fortuna di capitare su questo canale che comunque sta crescendo e si sta allargando sempre di più che tra l'altro io ti invito sempre a seguirmi anche su Instagram perché oltre a fare giveaway e altre informazioni vado a dare sempre qualche tip operativo aggiuntivo una cosa che io ti invito a fare è andare a scrivere nei tuoi appunti come mai qua mi sono scritto queste cose flessibile e dinamico oltre ad essere disciplinati i pazienti che comunque sono le fondamenta del trading noi dobbiamo essere flessibili perché dobbiamo essere in grado di riuscire a cambiare il nostro bias direzionale e poi dobbiamo anche essere contemporaneamente dinamici quindi cosa significa? che se io vado ad operare su time frame bassi ad esempio un minuto o anche pochi secondi posso avere devo avere anzi quella rapidità devo avere quello che è un mio stile operativo ben improntato ed essere sempre sul pezzo mentre qui per la flessibilità devo essere in grado di cambiare idea troppo spesso rimaniamo convinti della nostra idea di quello che ci interessa maggiormente perché vogliamo avere ragione ma come ho detto anche più volte noi all'interno del mercato non siamo pagati per avere ragione ma siamo pagati in base a quanto riusciamo ad ascoltare il mercato perché è lui che va a definire le regole del gioco ci sono varie cose che noi possiamo andare ad applicare all'interno del mercato ci sono vari concetti che possiamo andare a mettere insieme per giocare a questo fantastico gioco però se noi non rispettiamo le regole visto che comunque noi ne abbiamo tanti di mezzi a disposizione per ottenere il nostro risultato quello che vogliamo veramente quindi cosa? ovviamente il guadagno però in mezzo a tutto questo insieme di dati di informazioni perché qui all'interno del mercato noi possiamo guardare tante di quelle cose che sono incredibili possiamo guardare il mercato a candele possiamo guardare il mercato a linee possiamo guardarlo con le candele ai che nasci cioè possiamo utilizzare veramente tantissime cose candele vuote cioè una vastità di informazioni incredibili ok? veramente incredibili quindi quello che noi dobbiamo andare a fare ovviamente è non impuntarci e non pensare che quello che abbiamo visto in base a tutto quello che c'è che si può trovare in informazioni sia l'unica cosa vera e fattibile perché non è così noi ricordiamoci queste regole perché se no ovviamente continueremo a rimanere sempre nello stesso identico punto e come ho detto anche nello scorso video ragazzi bisogna continuamente documentare anche questi disegni che io sto ti ho portato adesso che andiamo a vedere anche insieme con qualche esempio pratico molto veloce scrivitelo nei tuoi appunti se valuti veramente e reputi che vuoi ottenere risultati nel concreto concretizzare queste cose qui scrivitelo negli appunti e vai ad applicare e riguardati questo video costantemente perché se no puoi continuare nello stesso identico modo che hai continuato fino adesso e ottenere gli stessi risultati oppure puoi iniziare a cambiare un po' l'approccio e cambiando l'approccio vedrai che poi di conseguenza potrai anche cambiare i tuoi risultati ora visto questo quindi accumulo riaccumulo andiamo a toccare un zone distribuzione ridistribuzione per andare giù andiamo a cercare questa cosa per evitare di essere buttati fuori inutilmente all'interno del mercato come si può vedere anche ad esempio qui all'interno di Audi USD quello che è successo è che il prezzo andando a vedere quello che va combinato qui vedi che aveva fatto questa mega sparata rialzista metti in caso che tu ti trovi in una situazione dove qua vedi che il mercato inizia a comprimere lateralizza e se ne va a rialzo bene andando a rialzo e avendo tutta questa direzionalità magari qui non si è presentata l'occasione di entrare come noi vorremmo e siamo soliti a tradare e va benissimo perché ovviamente non tutte le cose non tutti i concetti funzionano sempre nello stesso identico modo ed è sciocco pensare di entrare in un modo che ha funzionato altre volte è un continuo mescolarsi delle probabilità all'interno del mercato immagina di avere un vaso in mano con un sacco di bigliettini dentro e quello che tu vai a pescare mettendoci una mano dentro questo vaso può essere un bigliettino che cambia ogni volta una volta entri perché c'è la candela istituzionale con quello che potrebbe essere una candela mista potresti entrare la prossima volta peschi e questa volta qua magari peschi quella che è entrata con un'emissione quest'altra volta invece no peschi stop loss sono tante cose che si possono andare a unire e ovviamente per questo si dice che il trading è un gioco basato sul che poi definire lo gioco è proprio un vero e proprio business basato sulla statistica e la probabilità quindi ovviamente noi dobbiamo essere in grado di mettere insieme tutti i dati che abbiamo a disposizione e tutte le informazioni che abbiamo raccolto fino ad adesso per andare a ottenere quello che veramente vogliamo e quindi qua dentro il mercato ha fatto una schematica per andare a rialzo e sparando rialzo se poi andiamo a vedere quello che è successo qui prima di andare a invertire molte persone cosa che hanno visto hanno visto che magari su questo punto il prezzo è andato a creare questa zona qui hanno rotto e qui magari si potevano aspettare di ritestare questo possibile livello per andarsene al ribasso quindi un piccolo temporary profit una piccola induzione se vediamo ce l'è andata a creare però dopo come mai è andato a sbilanciare ulteriormente e a prendersi il massimo proprio perché qui poi se vedi sbilancia e inverte e poi se ne va giù veramente in maniera aggressiva perché quello che era le direzionalità e quello che voleva andare a fare era di andare continuamente a ribasso quindi abbiamo avuto zona di accumulo abbiamo avuto poi un'altra zona di riaccumulo all'interno del mercato questa zona di riaccumulo poi ha portato una schematica di distribuzione dove il prezzo poi da qui è andato a testare quindi qua c'è di mezzo Wyckoff ma non voglio andarla a complicare la situazione e andando a completare questo succede che il mercato schematica questa qua poi diventa quella che in primis è una schematica di riaccumulo poi inizia a far parte della schematica di distribuzione quella grande a livello di time frame se vedi questo è tutto un insieme e cosa succede che dopo che ha fatto questa cosa qui il mercato è iniziato a comprimere ma ricordiamoci che dopo una fase di accumulo o in questo caso di distribuzione è molto più propenso il mercato ad andare a fare cosa un'altra fase di ridistribuzione e qui il mercato se vedi è andato giù e dopo che ha fatto la schematica queste cose qui sono devastanti dopo che ha fatto la fase di distribuzione ridistribuzione ha compresso e dopo da lì finalmente è andato a rialzo e se poi andiamo a vedere qua bene fase di accumulo cosa facciamo poi dopo la fase di accumulo andiamo a riaccumulare e dopo che abbiamo riaccumulato possiamo iniziare a distribuire bene ovviamente questa cosa qua ragazzi è fondamentale ricordarsi che non sempre viene rispottata al 100% ma noi possiamo andare a implementarla quindi accumulo qua c'è andiamo a segnare quello che è il nostro riaccumulo poi qui dentro possiamo andare a mettere insieme quello che è una sovrapposizione di una distribuzione questa qua poi di conseguenza diventerà un'altra ridistribuzione e quindi ricordati la regola del 1 2 1 2 1 2 poi da qui dentro c'era l'accumulo e un esempio molto semplice che c'era all'interno di queste zone qua che adesso ti voglio portare è proprio la schematica che si era sviluppata qua dentro perché ok io identifico questa cosa qua questo massimo del possibile riaccumulo me lo vado a segnare andandomi a segnare questo massimo qui posso iniziare a giocare a un minuto posso andare a giocare magari con un time frame anche più basso e andando a vedere quello che avevano combinato se noti questo era un massimo che il mercato aveva fatto più basso rispetto a quello precedente inizia la compressione noi possiamo andarcelo a segnare e per chi ha acquistato il libro sa bene di cosa sto parlando perché diventa molto più semplice le informazioni ti cambiano veramente succede che poi qui dentro noi andando a guardare quello che avevano combinato avevano creato questa zona di doppio minimo perfetto e la domanda che bisogna farsi è qual è quella candela istituzionale che permette lo sbilanciamento della liquidità assegnata è questa quindi avendo questa candela istituzionale io me la vado a segnare la tengo in considerazione e il fatto di tenerla in considerazione è importante per il futuro perché una volta è segnato quello che magari sono gli autori di coloro che hanno creato l'ultimo minimo perché andando a vedere qui hanno fatto questo pam pam creato un minimo più basso se ci vanno a superare coloro che hanno creato questo minimo più basso ovviamente possiamo aspettarci il ritest per poi andare a rialzo rialzo fino a dove è importante sì sapere dove entrare ma anche altrettanto importante sapere dove uscire altrimenti poi ci facciamo veramente male e tutti i sacrifici che facciamo fino ad adesso ovviamente vanno a vanificarsi e noi non vogliamo fare un lavoro per niente quindi qua il mercato va a fare questo vediamo che il prezzo va a creare liquidità ma comunque tiene rompe a rialzo e questa è la nostra zona di interesse dove una volta che ha rotto la nostra ultima zona di dominance possiamo aspettarci il ritest per poi andarcene su quindi possiamo aspettare un trade di questo tipo stop loss sotto l'ultimo minimo per andare a farla qualcosa di molto semplice non c'è bisogno di andare a complicarci la vita però ti rendi conto di quanto può essere semplice poi andare a mettere insieme un paio di concetti veramente semplici semplici e poi implementati nella maniera corretta possono portarti veramente a un risultato che vuoi ad esempio questa qua siccome era anche una candela istituzionale piena noi potevamo valutare quello che era un possibile 50% e come comunque vado a invitare i ragazzi della community privata se sai che ad esempio hai un 68 291 a rotonda sempre per eccesso quindi vai sul 295 e andando sul 295 mettendoci anche in considerazione lo spread capisci bene che qui magari da un'entrata possono scappartene fuori anche due molto precise per poi andare a portare magari quello che potrebbe essere uno a due e mezzo e poi qua c'è anche un 1 a 4 quindi ovviamente anche qui per questo che io ci tengo sempre a battere il chiodo sempre nello stesso punto perché è quello che fa la differenza informazioni documentare prendere appunti e continuare sempre nello stesso in unico modo così continuamente 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 infatti questo qua era un trade super e immagina di ritrovarti in una situazione dove tu non contestualizzi tutta questa cosa qua non sai che ti ritrovi su un riaccumulo quindi che poi essendo il secondo il riaccumulo il mercato inverte e tu magari vai a cercare target ancora più alti ti fai prendere dell'abilità e cerchi di fare chissà quale magheggio per andare a guadagnare di più e qua poi magari non metti a break even premi stop loss e magari allarghi lo stop loss allargando lo stop loss poi mettiamo caso che vai a rischiare anche più del dovuto e continui a caricare siccome magari qua sei dentro cerchi di entrare il più possibile qua dentro per vedendo questo questa rottura di struttura per andare su e dopo da qui vai a bruciarti dire così che le persone vanno a perdere la maggior parte del loro capitale all'interno del trading e vanno continuamente a bruciare i loro soldi quindi adesso abbiamo visto hai capito questo tassello veramente fondamentale e proprio per questo lascia un like perché veramente io questo canale voglio che cresca e che vada a raggiungere più persone possibili per poterlo aiutare sinceramente per poter dare un qualcosa veramente di concreto qualcosa che può veramente cambiare la visione a mercato delle persone anche per chi ovviamente che capisco benissimo i problemi delle persone che possono avere non ha la disponibilità da andare a investire ma semplicemente vuole andare a cercare informazioni e applicare anche con la buona volontà ecco io confido sempre nella buona volontà e nell'etica delle persone l'integrità delle persone cosa che molte volte mi è capitato anche sulla mia pelle di non vedere nel concreto però ovviamente non bisogna diventare delle brutte persone a causa proprio delle brutte persone che si possono trovare all'interno nel percorso della propria vita voglio essere quella quel qualcuno che fa veramente la differenza quindi ora hai visto un concetto molto 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 salsoso che ti sarà sicuramente di aiuto e ti permetterà di prendere meno stop loss e magari potenzialmente andare a prendere qualche trade e ora un altro tassello molto importante è stato aggiunto abbiamo raggiunto anche i 1000 iscritti cosa che sono super super contento e vi ringrazio tutti per il supporto tra l'altro è stato fatto anche un giveaway all'interno del canale dove ho portato tanto valore più di 2500 euro di valore comunque di giveaway per chi l'ha sfruttato comunque benvenga per i prossimi sapete bene che dovete seguire anche su instagram mi raccomando anche su telegram e rimanere sempre sintonizzati perché potresti essere il prossimo a vincere quello che potrebbe essere da una formazione gratuito un qualcosa che potrebbe aiutarti effettivamente in maniera molto efficace a ottenere risultati sperati detto questo io ti ringrazio per la visione ti consiglio di comunque prendere appunti di guardare il video più e più volte e noi ci vediamo nel prossimo video dove porteremo tanta tanta altra salsa non dimenticare di iscriverti di seguirmi qua su telegram ed appertutto perché ce ne saranno tante di altre cose che arriveranno super super interessanti alla prossima bye